Sono l'unico giudice della verità delle mie parole. Lei sa la distanza che c'è tra pensiero e scrittura, tra corpo e anima, tormentate insieme dalla ricerca che fa emergere il salto isolato e compiuto che resta l'universo interiore è roba pregiata per pochi in linea con la postura che ho di fronte bugiarda esistenza. Mai porrò fine a questo afflato mistico di promesse nella condizione esasperata di isolato. La visionarietà coincide con il mondo truccato per la sopravvivenza. Consapevole del rischio, vado fabbricando una lingua da manicomio teatrale, senza alcuna gerarchia tra invenzione, ricerca e forma. Tutto deve restare nell'idea, ma continuamente cambiato. Ecco perché questo scritto, non definitivo, non può essere considerato un vero libro. Non è mai stato realizzato, solo abbozzato per donarsi all'amore assoluto. Oltre il tempo e definizioni di sistema, la congruenza col piano della realtà sarà sempre fragile se il testo trasferito su un piano astratto rappresenterà una prospettiva di contaminazione, un'irruzione di verità, un'opportunità da laboratorio aperto. Ma questa certezza di non essere necessaria renderà libera la parola anche dalla poesia, della quale non sarà preda, ma solo iniziale costrutto. Ora non ditemi di non capire il senso del tutto.